Porta Rosa, splendido e prezioso esempio di arco di età ellenistica dell'Ea Velia, sbarca sulle frecce di Trenitalia e lo fa attraverso la pubblicazione sul magazine La Freccia dell'immagine del monumento abbinato al logo della 19esima edizione di Velia Teatro, la rassegna di teatro antico in programma dal 6 al 22 agosto nel sito Patrimonio UNESCO. La Freccia è la rivista in italiano e in inglese diffusa in 500.000 coppie mensili su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e TR1000 di Trenitalia, con circa 8 milioni di contatti raggiunti al mese tramite il magazine. L'iniziativa, rivolta alla promozione turistica del sito di Elea Velia, oltre che alla conoscenza del festival teatrale che qui vi si svolge, è stata promossa dall'organizzazione di Velia Teatro con lo scopo di esibire la ricchezza del patrimonio culturale rappresentato dal Parco archeologico di Elea Velia. Con lo scopo di esibire la ricchezza del patrimonio culturale rappresentato dal Parco archeologico di Elea alla vasta e variegata platea dei fruitori dei mezzi a lunga percorrenza e alta velocità di Trinitalia. Portarose è la costruzione ad arco a tutto sesto, databile al III secolo a.C., scoperta dal grande archeologo Mario Napoli nel 1964 e da allora principale attrazione degli scavi dell'antica colonia greca in cui vissero i filosofi Parmenide e Zenone. La suggestiva immagine del monumento appare ora su un'intera pagina del magazine La Freccia di agosto 2016 in distribuzione in questi giorni e disponibile anche online sul relativo sito web. A corredo dell'immagine il potere evocativo di un verso di Parmenide, là si trova la porta che divide i sentieri della notte e del giorno. Cheppur elaborato circa due secoli prima dal filosofo, appare quanto mai aderente all'incanto e alle suggestioni dell'eccezionale Portarosa.